musica 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 f1dc ciao pig racing pig racing optional o indegna eh non lo so sono spawnato qua questo non è come vedete il nostro mondo unico questo non è un un cerpente vedete questa è un una gran merda di arceria medievale allora la scelta regaz e io e orso non sappiamo cos'è quindi se fa cagare prendetevela con lui ma neanche lo so cos'è ecco neanche lui lo sa quindi la scelta un altro pig racing allora questa cosa qui è l'anticipazione di cosa faremo nelle prossime settimane ma non diciamo più un cazzo oggi che giorno è tra l'altro è domenica si non facciamo la pig racing dai 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 vuoi fare la pig race? c'è una lever non c'è niente c'è se ti scappi delle palle c'è una pig race this will make the race start in 10 seconds e i pig dove sono? ognuno deve scegliersi un posto aiuto spawn pig saddle e carrot on a stick io tiro la leva, l'hai già tirata la leva? no no non l'ho tirata cosa devo fare? aspetta oh l'hai già tirata? l'hai già tirata? e cosa devo fare? devo spawnare il pig? spawnare il maiale metterci il coso andarci sopra e pedalare pedalare non sta pedalando questo maiale certo certo devi dargli un colpo di tasto destro mi è scomparso il maiale dove è il maiale? devo dargli un colpo di tasto destro ma il mio maiale? non si sta muovendo il mio maiale ah è lì ma è quello il mio maiale non so se è il lagge oppure oddio ma si è mosso ma c'è la canna in mano? no la canna con la carota sai farla andare dove vuoi tu a me non va che cazzo ne so io? scusa eh ma sono più figo scusa ma cosa bisogna? dove bisogna? no mi sono bugato di là io ho vinto regà però mi spiace ma dov'è l'inizio della gara? aiuto! era la toxina oddio no sono bugato nel terreno sono bugato nel terreno si moro sta correndo come un cretino sto maiale aiuto porca come hai fatto a morire scusa aiuto c'è un altro maialino che vuole la mia carota ahahah basta regà dobbiamo lavorare qua eh aspetta che la tiro addosso a orso la carota ho vinto pighi ciao eh carrot on a stick c'è ma che cazzo è oh qua c'è un villager allora non bisogna romper nulla in tutte le cose ho scritto qui for the aim impaired remember to enable command 7 vabbè bla 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 ma che belli i tavolini the only rule we have is here in here is that you please don't break anything please go vedi a cosa servono prendi l'arco io prendo power 4 ah no prendo flame sei stronzo col cazzo che sono tutti uguali io c'ho flame 1 power 4 panci 1 prendetevi 4 stack di frecce li ho già presi io prendo anche la boner i've got a boner orso ti sei preso gli stack di frecce posso ucciderlo? l'ho uccido io l'ho preso uccido dang ha ha l'ho uccido mi sono mi sono teletrasporto ma che cazzo mi ha teletrasportato si aiuto funziona così il command block è figo ti teletrasporta ma io non ho segnato niente l'ho uccido lo uccido non mi ha non mi ha spostato metto un po' ho chi lo voglio rega uh ti ha spostato cosa devi ucciderne due tipo? non lo so a me non mi si sta spostando ma orso ecco di normale pare di vicino le tivolo due tene di decidere ho capito lì cd con un colpo gli in pochi ha parlato aiutati però c'è la colpo in canna io aspetta basta che cambi che casino state facendo se vi levate leggo i cartelli come è infatti infatti sono spariti i cartelli per l'applicare i denti è messo sta cambiando il mercato gioco è metà data your game mode ecco qua va già male o shift tutti regalo forse non mi sta davanti io uccido quello lì ti uccidi sei un gignaccio che pippa non è scomparso niente però come non ti è scomparso niente sì ma regazzo la smetti di distilarmi le morti ma tanto mi sa che andare avanti è buona scusa perché non stai andando avanti ma lol che cazzo mi so io tensione lol è scomparso ecco cosa serve a perché qua c'è un pulsante e quindi mi sa che tipo visto che io l'ho toccato è tornato giù quella fare lucco che ok ma lol 7 in genio ok perché da rio Vuoi una carrot o una stick? Non va? No, no, vieni, dai, vieni No, come? In che senso non va? Sì, ok, io vado, cioè, aspetta Non sale il pulsante? Perché devi uccidere un po' di persone? Devi ucciderli, dai, tipo due o tre Ma quindi hai di nuovo tutta la tua roba in mano, rega? Certo, quando muori ti dà Quante volte, cioè Hai orso, dai, uuuuh Era che stronzissima sta cosa, comunque, che figata Ma questo cos'è, quindi? No, 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 no Ma orso! Scusa, te lo tengo promuot io? Ma orso, è al contrario, tu non lo devi toccare Ah Se lo tochi, la senti Merda, poi, per forza la gente chiede se sei ritardato, ma porca troia No, la gente è ritardata, che me lo chiede No, no, un tipo ha chiesto se sei ritardato Non tirargli le cose su... Ma sei imbecille, sei Sì, aspetta che gli tiro l'arco nella lava Sì, aspetta che... Equal signs close, close parentesi Ma va a cagare Posso incendiarlo, questo? Adesso lo incendi Sì, ah Non te! Ma... Orso, ma mi sei passato davanti? È stato il biondo che mi ha tirato orso Guarda lì, chiaro... Eh! Faccia di cazzo! Merda, mi hai lasciato mezzo qua! No, 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 no! Ritardata, ammazzo! Oh! Oh! Che pelo ha la tua testa! Muoviti! Oh! Ce l'ha fatta anche il nostro bel bambino! E l'ho fatta anch'io! Oh! Facciamo la cesta qua dietro! Che io spas, wisely! Facciami qua! C'è una cesta? Wrong path! Beh, però... Cifatico! Dario, stilo tu questo! Cos'è che c'è dentro? C'è questo dentro! È un creeper spawner! Aspetta un attimo! Pronto? Easter egg! Choose your path wisely! Eh, in quella parte lì non c'è nulla! E cosa c'è? Cos'è quel coso lì? Uno spawner di che? Un uovo di che? È un easter egg! Ah, è un easter egg! Va bene! Benissimo! Don't go this way! Eh... Ah, come no? Ah! C'è un... C'è un... C'è un... Hai premuto il bottone? Sì, ho premuto il bottone! Ma ci sono le camere d'oletto! Ci sono le camere d'oletto! Ma io gli sto andando dalla parte dove c'è scritto non andare da questa parte! Ma vieni a dormire intanto, così salviamo! È un checkpoint! Have to sleep before you jump! Guarda, lo faccio adesso! Sono già addormente! No! L'ha fatto! Oh! Parare cose! Orso! Dai! Perché stai dormendo nel P2? C'è scritto di dormire ognuno nel suo letto! Ma chi se ne f... A parte che non mi ricordo neanche qual è! È il 4! C'è scritto di dormire ognuno nel suo letto! Ma c'è scritto nelle... nelle... nelle istruzioni! Ma chi se ne frega dalle istruzioni! Orso! Orso! Ah, sto correndo! Non so dove sono! Devi andare avanti e pisare un bottone! Sono in una terrazza! Ho fatto il giro! Esatto! Total waste time! L'ho fatto anch'io! Pizzi il bottone! Apri la porta! E sei dove di prima! Benissimo! Pizzi il bottone! Daiene! Oh, hai dormito! Ci sono io due! Senza ulteriore indugio! Try to swim in lava! Try to swim in lava! Eh già! Teleport! Teleport! Hope you're not! Orlava! Vai! Uuuu! Ma aiuto! Have before... Have a sleep! Però! Areo fall! Eh sì ma ne ho già nulla lì sotto! Anche io! Aiuto! C'è niente! C'è un buco! Aspetta! Bisognerà prendere qualcosa al volo! Aspetta aspetta! Have a sleep before you jump! Ah! Bisogna prendere quello lì! Quello lì! Quello lì! No! Io l'ho preso mi sa! Eh? Bisogna prenderlo mentre si vola! Mentre si vola! Indegno cazzo! Certo che è indegnale! Ma più bene ho detto io! L'ho beccato! L'ho beccato! Stronzo! Anch'io l'ho preso! L'ho preso! Allora si dovrebbe essere qualcosa! Tu! No! Tu sei morto! Io non sono morto! Io l'ho preso! Ma anche io l'ho beccato! Prendete il vetro! Ma non l'ho ucciso! Ah! Social madonna ci vogliono due colpi? È impossibile! Io sono arrivato! Io l'ho colpito di nuovo! Infatti mi sa che mi ha trasportato di nuovo me! Credo non lo so! Infatti vedi che cambia? Hai diventato bianco! Eh perché l'ho ucciso cosa? Io... Allora aspetta! A parte che no! Non l'hai ucciso stavolta! Qua c'è della torta rega! Eh? Ma fai... Orso spari da qui? Quindi? Mmm... E si! Mmmmm... Mmmmmmm... Me le riprendo le frecce indegne Se va bene è bugato Oh io ce l'ho fatta quindi non dire puttanate Siete voi che siete brocchi Mi piacerebbe Io adesso io mi mangio la torta No non si può Io l'ho colpito Hai visto che l'ho colpito? C'è la gran beef tech Io mi mangio la beef tech Mentre voi non fate un gatto Ed è morto C'è sono pieno di arrows Di beef tech Di tutto duro Ecco va ucciso Sì ci vogliono due colpi Scusa come ho fatto a peggapia Ah cioè la prima volta sei andato giù Dai dai orso dai Io l'ho preso neanche una volta Ma sei un figlio di dio? Volevo sparare alla porta Sei un figlio di dio? Ecco sì certo sono fuori Adesso non rifarlo Ma non c'è l'omino qua? Non c'è l'omino qua dentro Sì che c'è io lo vedo Io non lo vedo C'è c'è È marrone come te quasi Dario uccidi orso Uccidi orso Voi? Prova a uccidere l'orso L'ho ucciso No ucciderlo con l'arco L'ho ucciso? E con cosa vuole che aveva l'ho ucciso? Con le carote? No ma l'hai ucciso bruciando Sì guarda come l'hai ucciso Non l'hai ucciso te C'è scocone burne Orso burne Vedi? Oh merda l'ho preso Dai su forza Sono bravo Buono intelligente No io becco il vetro Se no qui non ce la facciamo più Stacc Sì è arrivato anche orso Merda sei troppo bravo orso Ha avuto bisogno di una mano Mentre un po' anche di torta Prenditi un po' di carne E io becco lui nell'occhio proprio Ma ti serve la ciccia? Ma prendo uno stack Però non so cosa serve Ma come ho fatto a non averlo preso? Ora l'ho preso Aiuto Come? No però c'è preso Oh Aia Cos'hai fatto? Sì ma non può durare così po' Ma cos'è? Portati Io sono dentro Sì Io sono dentro State con State con la E premuti sulla porta? I Sì quasi Con la I? Con la V Sì con la D Va bene Perché ci ho disegnato un pene? Come? Ci ho disegnato un pene Dai che adesso lo brucio a morte Dai che passo Dai che passo Sì Non ho mai beccato me coglionaccio È un pene Certo Ma il genito Adesso c'è scritto Grazie Ah perché ne ho poche Orso devi stare con la D Premuto sulla porta Dai prima della fine della serie Beh ma non lo vedo Appena passa Vedi? Va bene dai Dai orso sei troppo bravo Ce l'hai fatto No sei arrivato anche tu Cosa dobbiamo fare? Bisogna prendere la roba Ah poi bisogna beccati Aia Aiuto Hey I did it Cool This time the target be So easy to see This take you a few hours Quasi Cosa sono sti affari? Colpire il filo L'ho già colpito Ma ha trasportato me però Sì, ma vedi che bugga Mera, orso, ma... Sono troppo pro, l'ho colpito L'ho colpito ancora prima Di lanciare la freccia, cioè Io sono troppo figo, rega, mi spiace Oh, qua c'è una cesta Easter egg Posso spawnarlo Ma sei Van tenu, andavano tutti Deficiente, per la fine speciale Se si avevano tutte le uova No Ma perché? C'era schinizio, quindi non era difficile Da leggere Ma forse Fai diventare note Bravo Fap time Fap time Chi è che continua a sparare frecce, scusate? Io Ah, beh, scusate la domanda stupida Ah E' qui Ah no, dovevo prendere Ma Ah, lol, ma Ah, perché vuoi sparare qua? Grazie Eh Sì, ma Loli, io credo ci stavo sparando sopra come un danato a sto bottone Ma io stavo sparando di qua, aspetta, scusa, viene a vedere una cosa, rega Vedi? C'è un, c'è un, una, una, un È un tripwire Eh Ma non lo sto riuscendo a prendere Evidentemente qualcuno l'ha pigiato, visto che questo sia aperto Ah, l'ho rotto io Ok, perfetto E ma? Che siamo tutti qui Sì, ma dobbiamo fare delle orgele bastanti qua dentro Sì, capisci un cazzo Però non si riesce ad andare avanti da qua, eh Ah no, bisogna prenderlo quello là nella crappa Aspetta Fa vedere Sì, ma No, dovete andare via da quello, mi sa Infatti, orso, devi venir via, se no ti spari in faccia Orso, ti scavi E non, e non state sul, 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 sul pomellotto lì Però Sono sparato nei piedi Ucciso No Ma era orso, sempre a cittare, eh Che cosa? Oh, qua c'è uno con la bibbia in mano Ahia, mi ha fatto male Eh sì, ma c'è un po' di f... Ma siamo tutti tre Quindi, come facciamo? Ah, quindi adesso il primo che, che incendio muore Poi l'altro muore, anche lui Ciao E aspettate un secondo ad entrare qui dei... Cos'è quella roba lì? Ah, c'ha la barba Ok, ok, ci sono, sono fuori Sì, orso, ciao, va bene Perché sono qua? Non ne ho idea, però io, io sono andato Ma perché mi ha teletrasportato in indietro? Non lo so, io, io sono nel punto giusto Ragazzi, se vuoi, andiamo Il challenge will take you Do you know southern right Whales have testicles That weight over one metric tonne? Ma continua a teletrasportarmi? Cosa vuol dire? La roba è bagata come la merda Oh, le, le, le Le southern right Ah, va fatto velocemente Ah, io l'ho fatto velocissimamente, allora Sì, tu ci hai messo un mese, ci hai ucciso tutti E beh C'è la potenza Orso, vai pianino Non ho capito niente Sono dietro di te, tra l'altro Ragazzi, ne sai un bel po' o sbaglio? Eh, no Io sono qui Oh, ciao, biondo Did you know? Grazie Va bene Merda, sti teleport Che palle Ragazzi, bisogna essere, bisogna tenere Ecco sì, dai, amassami, muori, ritardato Ma che sono dietro? Allora Una mappa con gli archi non è stata una buona idea No, una mappa con voi non è una mappa con gli archi Non è il problema di archi Dai, tp, orso Orso, dafo Ma io stavo già andando Come you dive? Ma sei idiota? Senti come ho fatto a non farti io, sentiamo Non so se c'è scritto One shot by orso Non so come hai fatto, però Che cazzo? Chiota Ma dove dobbiamo andare? Non lo so, cazzo Devi cadere su quello al centro, curbi Bisogna stare al centro Devi cadere su quello al centro? Sì, orso Stai un po' sul cazzo, eh Ecco, fatto Sì, orso